Il dottor Antonio Tramonte è candidato al Consiglio regionale pugliese con la Lega. Il dottor Tramonte è un medico e con noi vogliamo parlare di sanità, tante emergenze che viviamo quotidianamente, tante realtà che creano ovviamente sofferenza all'utenza, penso ai pronto soccorso chiusi e a quelli più centrali del Santissima Annunziata e dell'ospedale di Martina che letteralmente scoppiano, penso alle liste di attesa, penso a reparti e a strutture letteralmente chiuse. E allora dottor Tramonte, qual è la proposta, qual è la denuncia, qual è la proposta per migliorare la sanità, per dare al cittadino una offerta sanitaria decisamente migliore? La situazione è sotto gli occhi di tutti, in questa provincia nell'arco ionico in sanità è stato fatto ben poco, per non dire quasi nulla, si è cercato di tamponare semplicemente quelle che sono state le emergenze o le necessità del momento. Quello che andava fatto negli ultimi 15-20 anni e attuare era quello del riordino sanitario, riordino sanitario che prevedeva sì, non la chiusura ma o meglio la riqualificazione di alcuni ospedali e ovviamente alla messa in opera o comunque in pieno funzionamento di quelli che ovviamente sarebbero dovuti rimanere aperti. Quindi faccio riferimento all'ospedale di secondo livello a Taranto e agli ospedali di primo livello nei vari versanti, Martina Franca, Manduria e Castellaneta. Il tutto ha funzionato sempre in riserva perché Taranto ancora aspetta il proprio ospedale di secondo livello, la sua nuova costruzione da oltre 15 anni e gli ospedali di primo livello che ho menzionato prima ovviamente non sono mai entrati in piena efficienza. A questo si ovviamente si aggiunge la beffa della chiusura degli ospedali più limitrofi e qui faccio riferimento a Massafra, faccio riferimento a Grottaie, faccio riferimento a Motola, strutture alcune delle quali anche ex nuove come è stato l'ospedale di Motola. A Massafra furono costruite ex nuove le sale operatorie 15 anni fa, dovrebbero rientrare in funzione semplicemente adesso dopo l'emergenza Covid che ovviamente ha messo in evidenza un completo disastro dell'assetto sanitario e dell'ospedale di Grottaie che anche esso è praticamente chiuso nonostante risulti essere l'ospedale satellite, interessantissima annunziata almeno per quelli che sono i posti della medicina, soprattutto nelle poste acuze, questo per far spazio e ordine a quello che è l'emergenza attuale e finché non venga costruito l'ospedale a Taranto. Massafra fa parte di quegli ospedali che andavano riqualificati già in passato, aveva già la possibilità di utilizzare quelle sale operatorie, ha comunque sì una diagnostica da diversi anni, una radiologia, una risonanza, un'attacca, una radiologia completa, le sale operatorie non sono mai entrate in funzione, la radiologia ha sempre funzionato con molta fatica, abbiamo appreso circa un mese fa la ripresa con grande stupore e la propaganda che riprendevano gli esami diagnostici con i mezzi di contrasto a Massafra perché si era individuata finalmente la figura di un anestesista, il che mi sembra assurdo come si possano bloccare alcuni esami per l'assenza di un medico. I dettagli sono tanti ma fondamentalmente quello che viene a mancare è che a Taranto mancano i contenitori e mancano i contenuti, quindi bisogna riprogrammare completamente la sanità fisicamente e in quello che dobbiamo mettere dentro, anche con la professionalità. Ovviamente i medici sono in sotto organico, così come anche l'altro personale medico, gli infermieri, gli ausiliari, non a caso vengono fuori adesso proposte di nuove assunzioni, ma ovviamente vengono a capo adesso, vengono fuori adesso per il motivo che l'emergenza che ha affrontato questo Paese ha messo in effetti in evidenza quello che già erano le criticità del passato. Le liste d'attese sono sempre state liste d'attese lunghissime, purtroppo ahimè, cosa che è peggiorata tantissimo in quest'ultimo periodo, nonostante tenete in considerazione che attualmente alle liste d'attese dell'ordinaria si aggiungono quelle che erano le vecchie richieste fatte in urgenza, adesso non c'è più discriminazione fra l'urgenza, la priorità o l'ordinario, è talmente pieno in calderone che praticamente si fa fatica a smaltire. Cosa ha pensato di fare l'attuale governo della regione? Per quanto riguarda la nostra terra aveva proposto di potenziare CUP, forse per lui bastava assumere una o due persone a rispondere al telefono, ma in realtà se mancano i medici, se mancano le strutture, se manca la possibilità di poterle effettuare, praticamente il problema non si risolve. Questo purtroppo è una triste realtà. Bisogna cercare di, è necessario assolutamente spezzare quel legame perverso che esiste fra la sanità e la politica. Purtroppo la politica è troppo nella sanità e fa ben poco invece per la sanità. Cosa invece di cui si dovrebbe principalmente occupare. Questa è una cosa molto grave, perché Taranto è sempre stata, l'ho sempre vista purtroppo come una provincia baricentrica. Baricentrica nel senso che non è una provincia al centro di tutto, ma dipende praticamente da quello che decide il palazzo della regione di Bari. E purtroppo Taranto per Bari conta pochissimo, conta niente e questi sono i risultati che cogliamo su questa terra. Quindi la mia proposta è di riattivare assolutamente con la massima efficienza quelli che sono gli ospedali che sono lì chiusi ad aspettare, ad attendere. Quello che ovviamente gli doveva essere dato già anni fa. come vedete, i Moscati addirittura hanno chiuso il pronto soccorso. Questo ha destabilizzato e ha congestionato ancora di più il pronto soccorso della Santissima Annunziata, oltre al pronto soccorso, ai punti di primo intervento degli altri ospedali. Praticamente ha creato delle difficoltà di gestione veramente molto, molto gravi. E questo di conseguenza sta provocando anche la fuga di personale medico, perché ovviamente tende ad andare in strutture, magari anche non necessariamente fuori regione, ma anche fuori provincia, dove trova magari delle condizioni lavorative migliori rispetto a quello che può trovare a Taranto. Perché ci sono colleghi ormai dove svolgono il loro lavoro in modo incessante, ore su ore, con ore di straordinario, quando lo straordinario in realtà dovrebbe rappresentare un evento eccezionale, straordinario, invece lo straordinario è diventato l'ordinario. Questo è un altro degli aspetti da affrontare. E quindi assumere veramente personale ed evitare, questo è importante, per assumere personale bisogna essere invitanti, ci deve essere la domanda, ma l'offerta deve essere anche invitante. Naturalmente se un medico non viene a lavorare tanto, perché magari preferisce fare un concorso guarda a casa a Bari, per un motivo c'è, non ha garanzie sufficienti per poter lavorare in sicurezza e con tranquillità in quella che è la nostra terra. E questo non va bene.